Più di 115.000 minuti di ritardo accumulati nel 2018 che corrispondono a nove giorni di vita sottratti ai pendolari. Il dato è peggiore del 43% rispetto al 2014. È la fotografia scattata da un'indagine del Movimento 5 Stelle sulle nove linee ferroviarie gestite da Fere e Tiper in base ai dati forniti dalla stessa amministrazione di Viale Aldomoro, ha spiegato Silvia Piccinini, capogruppo in regione del Movimento. La linea peggiore è la Modena Sassuolo, seguita da Suzara Ferrara, Reggio Guastalla e la Bologna Vignola. Abbiamo voluto vedere prima della giunta Bonaccini, quindi 2014-2018, e lì risultano ritardi molto peggiorati rispetto a prima. Servono investimenti concreti, ha spiegato Piccinini, e importanti sul potenziamento della linea ferroviaria esistente e non finanziare infrastrutture che aumentano l'inquinamento dell'aria. Dai dati della regione emerge chiaramente che da quando c'è Bonaccini i ritardi ci sono e sono addirittura aumentati rispetto a prima. In alcune linee, per esempio, si parla di un aumento di addirittura del 45%. E c'è un problema di attrattività delle linee, che questo si ripercuote ovviamente sulla vita dei pendolari. Secondo Piccinini, la giunta regionale al pali dei vertici di Tiper ha un atteggiamento schizofrenico. Ma lo dimostra anche la manifestazione che fanno domani, c'è il Partito Democratico, l'unica volta che scende a manifestare lo fa per avere più cemento. Quindi è un po' una schizofrenia di questa giunta che a parole si dice attenta ai problemi ambientali e in realtà nei fatti continuano a chiedere invece strade, cemento e grandi opere inutili. Quindi come passo ulteriore cosa proponete voi? Noi chiediamo che le risorse che vengono stanziate, appunto come dicevamo, per le grandi opere inutili, quindi penso alla Cispadana, sono 179 milioni di euro più 200 che Bonaccini ha annunciato di voler stanziare, vengano investite invece sulla mobilità sostenibile e sulle nostre reti ferroviarie.